Abbiamo chiesto ai nostri lettori e followers sui social di porci delle domande sulla indagine della qualità della vita del Sole 24 Ore, di farci sapere se avessero delle curiosità. Bene, sono arrivate tante domande, ne abbiamo scelte alcune e le ho volute rivolgere alle autrici dell'indagine, che sono le giornaliste Michela Finizio e Marta Casadei. Michela, la prima domanda è su cosa si basano i parametri? Sì, Alessia, i parametri sono 90, quindi l'indicazione è di contare 90 parametri statistici su base provinciale che vengono raccolti in una media delle medie per dare luogo alla classifica finale. Dentro abbiamo i più tradizionali, come il PIL pro capite, come i livelli di istruzione, quindi il tasso di diplomati e laureati, ma anche l'offerta culturale, gli spettacoli, tutta la parte dedicata anche al tempo libero. Tutta questa serie di indicatori in realtà ogni anno subisce delle modifiche legate all'attualità. Ci sono alcuni parametri che vengono inseriti proprio per stare al passo con i tempi. Per esempio quest'anno abbiamo inserito l'indice della solitudine, che ci permette di misurare la crescita dei singoli, quindi delle famiglie mono fatte da una sola persona all'interno del nostro paese. Purtroppo è un dato in crescita. Poi ci sono i farmaci contro l'obesità e tantissimi altri indicatori che potete controllare sul sito del Lab24, del Sole24ore. Un'altra domanda riguarda l'ultima classificata, che è Foggia. Perché Foggia è in fondo alla classifica? Foggia in realtà è stata già all'ultimo posto della classifica della qualità della vita, altre due volte, l'ultima 12 anni fa. È tornata appunto in questa posizione in realtà grazie a una serie di dati purtroppo negativi sui furti, sulla criminalità. E poi ci sono tutta una serie di altri indicatori che la spingono sul fondo nella categoria affari e lavoro. Sappiamo che è stato un territorio commissariato per mafia e quindi ora cerca di uscire da questo periodo che ha portato probabilmente un po' di depressione sul territorio. Allo stesso tempo ci sono degli indicatori che lasciano ben sperare, ad esempio sui livelli di istruzione o anche indicatori legati al clima che permettono di premiare questo territorio. Per adesso Foggia è tra le province del Mezzogiorno che ha la leadership negativa in questa classifica, ma ce ne sono anche altre del Mezzogiorno che risalgono la classifica. Ad esempio Enna, Isernia e anche Vibo Valencia conquistano una serie di posizioni e risalgono verso l'alto. Un'altra domanda riguarda la vincitrice, Udine, che è per la prima volta regina della classifica. Marta, qual è il motivo per cui Udine vince questa edizione della qualità della vita? Allora Udine, che sale di 11 posizioni rispetto all'anno scorso, diciamo che ha delle performance di livello medio-alto e impresso che ha tutte le sei aree della qualità della vita. Ci sono però dei record che mette a segno. Una è una doppietta, nel senso che vince anche l'indice della qualità della vita delle donne, che è un indice sintetico che misura un po' il benessere della vita delle donne in Italia con diversi parametri legati al lavoro, alla vita, allo studio. E poi per esempio ha dei record come il numero di piscine, di centri dove si possono praticare discipline sportive in rapporto alla popolazione. E questo sicuramente la spinge in alto. Un'ultima domanda riguarda la parità di genere. In realtà Marta hai già risposto a questa domanda, però è una buona occasione per spiegare che da questa edizione l'indagine della qualità della vita analizza in dettaglio la condizione delle donne nel nostro paese. Sì, questa edizione della qualità della vita analizza assolutamente la parità di genere attraverso innanzitutto un nuovo indicatore che viene inserito nella classifica, nell'area tematica degli affari e del lavoro, che è il gender pay gap e che vede insomma in testa Prato e ultima Siracusa. E poi perché uno degli 90 indicatori della qualità della vita è proprio l'indice della qualità della vita delle donne che misura tra le altre cose il tasso di occupazione femminile, le imprese con titolare donna ma anche il tema per esempio dello studio, per esempio la percentuale di donne laureate e fa emergere appunto dove vivono meglio le donne in Italia.